A Teramo nasce la Segreteria di Futuro e Libertà e il nuovo coordinatore è Andrea Fantauzzi. Il nome del giovane avvocato Teramano, presidente del circolo Teramano, è stato confermato ieri sera durante il primo congresso comunale del partito nella sala convegni dell'hotel Abruzzi a Teramo. L'idea di far nascere questo partito è di soli alcuni mesi fa. Abbiamo fatto un percorso che è stato quello di strutturare il partito nel territorio attraverso una campagna di adesioni che ha riscosso un ottimo risultato. Infatti il circolo di Teramo ha al suo attivo 550 iscritti. Soprattutto il momento che abbiamo celebrato oggi come congresso comunale è un momento importante dell'attività del partito. La sintesi dove tutte le anime che compongono questo circolo hanno trovato una sintesi con la quale è il punto di partenza dal quale partiremo per una nuova attività politica sul territorio. La sala convegni dell'hotel Abruzzi era gremita per le grandi occasioni. Tra i presenti all'incontro l'ex sindaco dell'Aquila Biagio Tempesta, il capogruppo di FLI in consiglio comunale Paolo Albi e il capogruppo di FLI in consiglio regionale Berardo Rabuffo che ha sottolineato come Futuro e Libertà in anticipo coi tempi si sia presentato alla gente come un progetto di innovazione. Anche a Teramo nasce il partito di Futuro e Libertà per l'Italia, un partito giovane che è nato a febbraio ufficialmente in Italia, poi il congresso provinciale, ora il congresso comunale, quindi siamo presenti un po' dappertutto. Ci iniziamo a organizzare mentre intorno a noi il mondo sta cambiando proprio in queste ore e siamo pronti con una nuova macchina ben organizzata e ferrata per partire. A questo punto, dopo quello che sta succedendo in queste ore, quindi con la crisi del governo Berlusconi, il FLI è nel terzo polo, ma che succederà? Credo che nei prossimi giorni, certamente prima della riapertura delle borse lunedì, sarà dato l'incarico di governo e questa è la scena nazionale. Noi invece stiamo lavorando sul nostro territorio, mano a mano, anche qui saremo investiti, ma è una crisi, quella nazionale, quella del PDL che accaduta poi arriverà anche da noi. Ospite d'onore al congresso anche l'onorevole e nonché vice coordinatore nazionale di Futura e Libertà, Daniele Toto, che ha introdotto il dibattito e ha sottolineato come nella congiuntura economica-politica che sta vivendo il Paese il FLI si ponga come un modello alternativo di politica seria e capace. La nostra posizione è una posizione chiara, già un anno fa devo riconoscere e devo rivendicarlo, avevamo fatto presente che c'erano problemi che poi alla fine sono esplosi, la nostra posizione oggi è una posizione di assoluta necessità che ci sia un impegno da parte di tutti i partiti politici perché si riesca tutti insieme a uscire da una situazione drammatica che vede il nostro Paese in una posizione veramente di tempesta. Il futuro è sempre nel terzo polo? Per noi sì, noi riteniamo che quello che sta succedendo in questo periodo dimostri il fallimento della politica del PDL come centrodestra e riteniamo necessaria un'aggregazione terza, un'aggregazione appunto di terzo polo che dia una risposta a una politica che oggi è assolutamente necessitata.